Nel fine settimana la regione non sarà più interessata dall'anticiclone caldo in quota ma da correnti più fresche che arrivano da nord ma che tutto sommato rimangono abbastanza secche. Per cui per la giornata di sabato avremo cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile sui monti. Le temperature scenderanno di qualche grado con massime intorno ai 25 gradi in pianura 22 o 23 sulla costa dove soffierà bora sostenuta. Un po' di vento ci sarà ovviamente anche in pianura ma moderato e anche in quota sui monti. Per la giornata di domenica cielo sereno per quanto riguarda la fascia orientale mentre ad ovest avremo cielo da poco nuvoloso a variabile con più nubi al mattino sulle zone vicine al cadore. Poi in giornata prevalenza di sole anche su queste zone. Temperature massime su pianura e costa intorno ai 20 gradi con bora moderata al mattino sulla costa poi brezze. Per l'inizio prossima settimana un peggioramento tra lunedì e martedì che porterà delle piogge e neve in montagna probabilmente oltre 1500 metri circa. Da martedì pomeriggio il tempo migliorerà e mercoledì avremo un'altra bella giornata. Dall'Osservatorio Metro Regionale dell'Arpa un saluto da Marcellino Salvador.